Musica E salve a tutti ragazzi da PierDarkNight91 ci ritroviamo su Pokémon Trading Card Online Game Bene faccio una piccola premessa il gioco l'ho un po' abbandonato perché dopo l'avvento dopo l'uscita di Pokémon GO Non sapevo più come registrarlo quindi sono riuscito a raccimolare 9 ticket che ci serviranno ragazzi proprio oggi per poter fare il torneo Vi dico che il video può uscire lunghissimo come può uscire cortissimo quindi questo video è specializzato solo per le persone che vogliono vedere un bel torneo se lo riesco a fare e se non ho perso la mano Quindi andiamo subito su tornei bene molto bene incredibile caricamento in corso e noi ci facciamo questo ok Se vinciamo prendiamo 3 buste di destini incrociati più 3 buste di espansione a caso di espansione a caso Bene quindi iscriviamoci e appena inizia il torneo ragazzi incominceremo con la prima battaglia Charizard devi spegnere la fiamma fa caldo va bene? Nel frattempo sta caricando tu spegni la fiamma perché fa caldo ok? Dai vai via vai via vai via bene ancora spegni la fiamma Mamma mia che caldo ragazzi che caldo ma non gioca più nessuno non gioca più nessuno stanno tutti a gioca a pokemon go Dai lasciate per un attimo pokemon go e venite a giocare siamo rimasti in 4 su 8 oh mio dio è uguale a me ragazzi è uguale a me Eeeh hai gli stessi occhi Oggi ce l'ho super 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 gonfi Mamma mia sta allergia di merda ragazzi mamma mia a che punto sta che punto sta Ok si stanno iscrivendo siamo 6 su 8 dai ne mancano 2 ragazzi siamo pronti a perdere Torneo iniziato affronteremo un avversario con pokemon di tipo erba ed è in vantaggio Ma vabbè noi utilizzeremo speriamo che ci esce un bel Charizard così subito lo bruciamo e vinceremo subito questo incontro Quindi prendiamo e vinciamo il lancio della moneta iniziamo noi si dai ok speriamo in Charizard speriamo subito in Charizard Dammi Charizard non mi ha dato niente non va bene come pokemon contro il nostro avversario che non ha la carta Quindi non ha pokemon quindi adesso noi pescheremo una carta in più vediamo un po non ha ancora un altro pokemon Quindi pescheremo 2 carte andiamo avanti si bene così vediamo adesso non ha ancora un'altra carta molto bene Non ha benissimo 3 carte pescheremo ok l'ha trovato finalmente dio sia lo dato si io pesco la carta Pesco l'altra carta e pesco pure l'altra carta vai 3 carte in più possiamo sperare in Charizard Bene ha un pokemon base quindi noi possiamo partire subito mettendo al nostro pokemon un'energia di tipo psico Poi possiamo usare questo strumento per prendere altre 3 carte e qui c'ho Gasly ma pokemon go non mi esce Finalmente c'è uscito Moltres molto bene c'è uscito Moltres che farà davvero tantissimi danni Finiamo il turno e il nostro avversario attaccherà per primo stiamo attenti anche se penso che il primo incontro sarà molto più semplice Ok il nostro turno possiamo incominciare ad attaccare puoi far scambiare al tuo avversario il suo pokemon attivo e fa 30 di danno Vediamo un po facciamo così e adesso direi di attaccare e poi gli faccio scambiare anche il pokemon attenzione Ok vuoi che il tuo avversario scambi il pokemon attivo con quello della panchina no no attualmente no perché al prossimo attacco lo eliminiamo quindi possiamo decisamente stravincere Ma ci serve un'energia ancora psico per andare a fare questa mossa che si chiama perfora premi Questo attacco infligge 20 danni in più per ogni carta premio che ti resta quindi lo ammazzo decisamente Il nostro avversario non attacca non mette energie non si sa qual è il suo concetto di sfida Va bene mettiamo questo strumento che ci servirà per vedere tutte le nostre carte premio eccole qui va bene Allora io direi subito di fare questo attacco per poi eliminarlo bene abbiamo eliminato il primo pokemon Dai muoviti su che devo vincere mamma mia che caldo ragazzi sto morendo Caldo allergia e mal di schiena quello quell'altro già faccio più signori questa estate di merda viva il natale viva il natale Pierluigi christmas bene Una caramella rara che cosa fa che cosa fa Oh mio dio l'hai voluto l'hai voluto in serperior Oh mio dio siamo nella cacca più completa Benissimo ma non è finita qui ce la possiamo fare signori Ce la possiamo fare se si decide di attaccare sto maledetto 140 di difesa usa pure la ultra ball Quindi andrà a prendere un altro pokemon Vediamo un po' Se spinarack Spi-na-rack Molto bene Un altro pokemon quindi se lo battiamo non vinciamo ancora Vediamo se attacca che cosa ha messo qui Foresta delle piante giganti I pokemon di erba di ciascun giocatore possono evolversi Ok ci ha avvelenato il nostro galleid Maledetto Ma noi abbiamo la cura Vediamo cosa fa danni maggiori 60 70 Maledetto Maledetto non mi rovinare la mia battaglia Non mi rovinare la mia battaglia che ti ammazzo Bene allora lo curiamo Adesso ti faccio vedere la fine che fai caro mio Devi perdere Proprio in una maniera assurda Ok Pronto? Sei pronto? Sei pronto? Salutami Salutami a casa Salutami la famiglia Salutami Serperior Salutami chi vuoi Benissimo Andiamo a prenderci questo Ralts Che ci servirà per fare le evoluzioni E adesso ha il suo spinarack Per poterci avvelenare Oh mio dio Oh mio dio Che paura ragazzi Che paura Andiamo avanti che ce la facciamo signori Andiamo avanti Dai Dai Attaccaci con il tuo Oh cacchio Non è spinarack Ari addosso Ma l'ha evoluto Ma l'ha evoluto adesso Non me ne sono accorto Ma l'ha evoluto e sempre stato l'evoluzione Boh Vabbè Vabbè Comunque Abbiamo vinto Abbiamo vinto Il nostro avversario Il nostro avversario Non voleva vedere il suo spinaracks Spinaracks Non voleva vedere il suo spinarack Alias Ariados Essere distrutto E quindi ha abbandonato la partita E quindi Il primo turno Lo vinciamo noi Guadagniamo pure 25 e poche dollari Molto bene E adesso dobbiamo aspettare che Miro 974 Contro Niki 07 Uno dei due deve vincere Per andare Contro di noi Siamo stati i primi a finire la battaglia Il nostro avversario non era fortissimo Ne arriveranno di più forti Dobbiamo stare attenti Siamo stati i primi a finire la battaglia